La problematica fondamentale che adesso si è venuta a creare è di questa discrepanza tra il diritto della continuità territoriale per quanto riguarda l'isola di Cava e quindi per quanto riguarda tutte le isole minori. È vero che il governo sull'istanza dell'Ancim e del presidente dell'Ancim abbia consentito ad una proroga dell'utilizzo soltanto del Green Pass base e non di quello rafforzato ma ovviamente questa è una limitazione perché la deroga si tratta di un mese, in pratica di una deroga e quindi questo riteniamo che sia un gap. È un'organizzazione nazionale perché tutti devono essere poi garantiti nella continuità territoriale dell'isola. Anche chi non è ancora pervenuto alla vaccinazione per vari motivi o per motivi di salute o per altri motivi non è ancora riuscito a vaccinarsi completamente o completamente e quindi non ha potuto accedere a quelle che sono le indicazioni nazionali del Green Pass e quindi non poter usufruire di quella continuità territoriale che è il diritto di tutti.